io ho conosciuto anime edizioni qualche anno fa ascoltando un video della dottoressa poli grazie al quale sono poi risalita ad altri video corsi e libri pubblicati da questa casa editrice su argomenti che a me interessano moltissimo in quel periodo stavo io stessa scrivendo un scritto mi chiedevo a chi l'avrei proposto e a quel punto mi è sembrato evidente che l'editore ideale per me sarebbe stato jonathan falcone così poi sono andate le cose e il libro è stato pubblicato con il titolo di biologia quantica viaggio ai confini della guarigione lavorare con l'equip di anime edizioni è stata per me un'esperienza davvero molto piacevole e arricchente sia sul piano personale che lavorativo perché ho incontrato persone molto competenti molto motivate sempre molto disponibili pronte a rispondere alle mie domande a darmi utili suggerimenti e anche dotate di una grande umanità ho molto apprezzato il fatto che jonathan offra una bella possibilità a scrittori emergenti sconosciuti come come lo sono io una scelta che è senz'altro coraggiosa e anche rischiosa in un certo senso credo che pochi altri sono disposti a fare inoltre anime fa moltissimo per promuovere le opere dei suoi autori attraverso video articoli conferenze attraverso i social quindi nel complesso io mi sento davvero molto grata nei confronti di questa casa editrice con la quale spero davvero di poter continuare a collaborare ancora per molto tempo